C'è la musica in diffusione Potete decidere con quale orecchio ascoltare Diciamo c'è la musica di sottofondo che noi distruggiamo Se non possiamo suonare quel pezzo che ci dicono che pezzo è lo facciamo insieme Così c'è un interplay Però è vero, quando finiamo che c'è la musica sotto mentre parliamo Lo sapevi che finiva così Facciamo delle canzoni sempre molto particolari La prossima è una canzone che ha scritto invece Marco Fuliano In quarta elementare, giusto? Ma l'hai fatta la quarta elementare, davvero? Il 93, sì Il 93 io mi ero già ammazzato Sapevo che ci fosse anche la quarta elementare Questa canzone la dedichiamo ai coniugi Bertè Ok, che si Che è successo? Salvatore! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.